Siamo al Parco dei Principi, condizioni ideali per assistere a un bel incontro. Un saluto anche a Leli Adani, accanto a me per il commento tecnico. Parte da qui la caccia al titolo di campione d'Europa, gara valevole per la prima giornata dei gironi di UEFA Champions League. Scendono in campo Paris Saint Germain e Inter. La fase gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare ma anche di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. In grafica vediamo lo schieramento di partenza del Paris per questo match. Squadra che ha nel press in cura delle sue armi principali, mi pare chiara l'intenzione di non far ragionare gli avversari. Tattica molto dispendiosa dal punto di vista fisico, è che richiede una grande organizzazione. Non basta correre dietro gli avversari, se lo fai a caso e con i lanci lunghi potrebbero anche trovare la difesa scoperta. Diamo un'occhiata alle scelte dell'Inter per questa sfida. Difesa composta da Skriniar in coppia con De Vrij. Marella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Romelu Lukaku. Squadra che debuttano ufficialmente dalla fase al Cironi di questa World Champions League. Verratti, Neymar, vincere uno contro uno. Occhio a Verratti. Si avventa sul pallone e ferma tutto. Barella. Esce e recupera il pallone. Ecco Mbappé. Il pallone è regalato qui dal Paris Saint-Germain. Ecco Lukaku. Ecco Lukaku. Ecco Mbappé. Lancio fuori misura. Palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Occhio a Brozovic. Che palla che è riuscita a intercettare. Attenzione a Neymar. Occhio a Verratti. Interviene proprio all'ultimo e salva. Sale la bandierina e dunque tutto fermo per fuorigioco. Lukaku. Palla consegnata a Barella. Nuovo pallone per Barella. Dzeko. Incredibile. Traversa. Non è finita. Occhio a Dzeko. Riceve Gosens. Fuori gioco, dice l'arbitro. Era di poco oltre. Mbappé. Lando Messica Neymar. Capisce tutto e ferma l'azione. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Scatta verso la porta. 1-0. Il gol che apre le marcature. La regia ci ripropone l'azione del gol. Grande idea qui di Lukaku. Lancio dosato alla perfezione. Aperto quindi il piattone. E la messa alle spalle del portiere che ha provato in vano a porsi alla conclusione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Neymar. Attacca il Paris Saint-Germain. Norma del vantaggio. L'Ottain. Acan Cialanoglu. Ecco Lukaku. Occhio Lukaku. Ecco Lukaku. Dzeko. Ecco Dumfries. Altro possesso per Dzeko. Cialanoglu. Ha segnato l'Inter. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giropalla prolungato in attesa del momento giusto. Non ha davvero lasciato scampo il portiere con questa botta dalla media distanza. Match che riprende. Ha allungato portandosi sul 2-0. Marco Verratti. Ha recuperato il pallone senza fallo. Pablo Sarabia. Grande intervento in chiusura. Il dato sul possesso palla è interessante, Pier, perché l'Inter è penalizzata. Al di là dei numeri, Pier, quello che conta alla fine è il risultato. Il fatto che stiano vincendo conferma che non importa quanto si tiene palla, ma come viene gestita la palla. E loro dimostrano di avere le idee molto chiare su cosa fare ogni volta che riescono a ripartire. Occhio a Dzeko. Tocco per Lukaku. Ciò la Noglu! Ciò la Noglu! Ecco il suo gol! Sempre pronto quando c'è da buttarla dentro. Rivediamo il gol al replay? Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Verratti. Mbappé! Palla respinta. Prova a recuperare palla con il pressi. Squadra, un passo da riposo. Riva frazione nettamente a favore degli ospiti. Stanno dimostrando di essere nettamente più forti, Pierre. Arrivano prima su ogni pallone. Riescono ad andare alla conclusione con una facilità disarmante. Si divertono proprio a stare in campo e fanno divertire i propri tifosi. È un po' meno quelli avversari, eh? Che non vedranno l'ora che finisca il primo tempo. Almeno nella speranza di esistere a una ripresa diversa. Quale l'imbucato? Hakimi. Ancora in possesso in attesa di compagni. Occhio a Neymar. Non si fa sorprendere. Corner in aria. Il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinare amministrazione per uno come lui. Parata. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Dumfries. Occhio al cross sul secondo palo. La spazza via. Buon pallone filtrante. Ha il pallone buono, vediamo cosa combina. E il pallone finisce in rete. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Ma non è per Sarabia. Occhio a Neymar. A metri. Un altro gol. E adesso lo svantaggio è molto ridotto. Conclusione da Sovventura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. Garaga ricomincia con il pari sotto ancora di una rete. Dumfries. Girano il pallone per aprire la scatola difensiva avversario. Ferma un'azione pericolosa qui. Hakimi. Fallo sarà. Punizione per il Paris Saint-Germain. Sostituzione del Paris Saint-Germain. C'è Pressing ma difende palla. Varella. Dumfries. Occhio a Dzeko. Splendido intervento difensivo. Può segnare da lì. Il portiere chiude la propria porta. C'è un cambio per l'Inter. Occhio al cross in mezzo. Nessun problema per il portiere. C'è questo colpo di testa. Pablo Sarabia. Pallone consegnato a Renato Sanchez. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Hakimi. Neymar. E c'è il gol che rimette le case apposta. Erano sotto di tre reti. Hanno saputo reagire. ecco il replay dell'azione che ha portato il gol. Hanno riviacato la retroguardia avversaria con questo fraseggio prolungato. Prodezza poi di Neymar Giugno. L'ennesima di un giocatore fantastico. Ha battuto il portiere con questa botta tremenda dalla media distanza. Non possiamo lamentarci dal punto di vista realizzativo. È veramente un grande spettacolo. Eric Vigitarian. Palla consegnata a Barella. Filtrante è calibrato bene. Bappi. Prolunga per Nuno Mendes. Vediamo se riesce a liberarsi per il tiro. Respige qui il tiro. Calcio ad angolo per il Paris che cerca il gol del vantaggio. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. E l'occasione va sfruttata. Come sottolineato anche dai tifosi. Corner battuto corto. Occhio a Neymar. Sa per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Corner battuto corto. Neymar. Tiro intercettato. Non un buon possesso qui. La spazio è davanti a sé. E c'è il gol. Ci portano avanti con una rimonta incredibile. Replay che sottolinea la sua ottima prova di oggi. Al di là dei tre gol parlo. Sta facendo ammattire tutta la difesa. Passano dunque a condurre in questo finale. Rete pesantissima. Possesso palla. Norma del vantaggio. Ancora Inter. Ed in Gieco. Hanno ancora un'occasione per rimettere a posto le cose. Devono sfruttare questo. È arrivato un pareggio pesantissimo. Il giusto premio per i loro sforzi. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcante da cui è scaturito il gol. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni. Renato Sanchez. Il tocco per Sarabia. Cerca la profondità qui. È chiuso? Vediamo se avventa qualcosa. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso. Poco è dal termine. Una voce girata per la formazione avversaria. Vedremo. Se avranno la forza per abbossare una razione. Pierre. Non hanno tempo da perdere. E questo è un gol che merita di essere rivisto. Per ammirare soprattutto il cross da qui. aperto quindi il piattone. E la messa alle spalle del portiere che ha provato in vano a borsi alla conclusione. Trovano in gol del vantaggio delle fasi conclusive del match. Gara che sta per finire. Inter che prova ancora. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. Allontana il pallone. Ottimo intervento. Si riparte quella punizione per il Paris Saint Germain. Tante interruzioni. E questo spiega i cinque minuti di recupero. Neymar. Attenzione c'è il pallone giusto per chiuderla. La rete di Neymar. O Ney non sbaglia. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura. E guarda l'esecuzione. È perfetta che è. Abbiamo coordinazione, potenza. È un gran gol. Dieci gol segnati fino a questo momento. Sei a quattro. Punteggia abbastanza inusuale per il calcio. Charanoglu. Palla consegnata a Barella. Occhio a Lukaku. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. La mette in mezzo. Non un gran che rinvio. Pericolo. Iniziativa sventata dal portiere. Andranno ancora dalla bandierina. L'arbitro mette fine all'incontro. Si apre con una vittoria. La loro avventura in Champions. Successo meritato, Pierre. Hanno approcciato meglio la gara. Trovando subito le distanze giuste in campo e mettendo ripetutamente in difficoltà la formazione avversaria con il loro fraseggio e la loro velocità. Grazie a tutti.